Momenti che per te sono fondamentali, simbolici della tua carriera? Allora, uno, non me lo scorderò mai, è la telefonata che ho fatto a mamma perché io i primi anni non potevo permettermi di chiamare mamma perché costava troppo. E all'epoca... Io poi non parlavo inglese, quindi ho vissuto mesi nel buio, anche nel silenzio. Non capivo quello che diceva la gente, non capivo quello che dicevano in televisione, non avevo amici italiani. E pensavo tanto a mamma, dico, vorrei tanto chiamare mamma, ma non potevo perché il telefono costava troppo. Quando poi Madonna mi ha preso, la prima telefonata è stata mamma, mi era piantata, però ho detto, mamma, mi ha preso Madonna. Dai, aiuto. Mamma, mi ha preso Madonna. Quel momento là, che non è un'immagine, ma mi ricordo l'emozione di quel momento, fortissimo. No, soprattutto io mi metto poi nei panni di mamma, che non ti sentiva da mesi, che non sapeva minimamente dove tu fossi, che cosa stessi vivendo. Per cui il momento in cui le arriva una notizia così, credo che sia una gioia. Ma infatti lei mi ha lasciato andare verso il viaggio, che mio padre cercava di non farmi partire, ma poi alla fine ha firmato lo minorenne, dicendo mentre camminavo, non guardare indietro, Luca, non guardare indietro, non guardare indietro mai. Non guardare indietro, non guardare indietro,